Oggi torniamo a parlare di cinema, lo facciamo con un po' di neon, un po' di pioggia e Blade Runner 2049. Io sono Simone Tarka e in questo canale vi parlo di fotografia, in questi video mi concentro più che altro sulla fotografia nel cinema. Andremo infatti a vedere quali scelte hanno fatto i registi per illuminare le scene, che colori hanno utilizzato, insomma parleremo di quanto sia importante la fotografia nei nostri film preferiti. Oggi vi parlo appunto di Blade Runner del 2049, quello più recente insomma. Infatti Blade Runner 2049 è un sequel di Blade Runner. Il film inizia con una breve introduzione, qualche linea di testo che ci permetta di capire ciò che vedremo per tre ore. Perché il film dura tanto, ma sin da subito ci vuole ambientare in quello che è Blade Runner. Io da queste linee di testo in realtà mi sarei aspettato qualcosa di veloce, dinamico, ricco di azione. Insomma neon, luci, replicanti, Blade Runner, ero casatissimo. E invece mi sono trovato davanti a un film lento, dannatamente lento, ma realizzato così egregiamente che sono rimasto incollato alla poltrona per tre ore. Per quanto mi riguarda Blade Runner 2049 è uno dei film con la fotografia migliore nella storia del cinema recente. E oggi andremo a vedere perché. Con la regia di Denis Villeneuve abbiamo alla fotografia Roger Dickens. E chi meglio di lui? Oscar alla fotografia nel 2018 con questo Blade Runner 2049. Oscar alla fotografia anche nel 2020 con il recentissimo 1917. Direttore alla fotografia di 1984, il film di Michael Redford ispirato all'omonimo romanzo di George Orwell. E ancora direttore alla fotografia di alcuni fra i miei film preferiti come Jarhead, Beautiful Mind o No Country for Omen, quindi non è un paese per vecchi. Ah, e il protagonista di questo film, di questo Blade Runner, è Ryan Gosling, che è tipo il mio secondo attore preferito dopo Edward Norton. E non giudicatemi per questo. Prima di andare avanti con il video però voglio chiedervi un piccolo supporto. Vi invito semplicemente a lasciare un bel mi piace al video, iscrivervi al canale e attivare la campanellina se ancora non l'aveste fatto. Ho bisogno di questo supporto per andare avanti, ci sto dedicando un botto di tempo al canale YouTube, quindi spero che riuscite a supportarmi in questo modo. Inoltre se vi va lasciatemi anche un commento, commentate scrivendomi quale film vorreste vedermi trattare in uno dei prossimi episodi. Detto ciò, torniamo al nostro video. Il primo elemento contraddistintivo di questo Blade Runner è il cyberpunk. Il cyberpunk è una corrente stilistica nata credo negli anni 80, potrei fare l'intelligentone, cercarmi quando è nata di preciso e dirvelo, sembrando super intelligente, ma no, più o meno, siamo negli anni 80. E questo stile, che è presente in romanzi, fumetti, libri vari, film, insomma, in tutto quel periodo in cui nasce il cyberpunk, troviamo il cyberpunk un po' ovunque. Ecco, questo cyberpunk è caratterizzato da ambientazioni particolarmente cupe, una vita generalmente difficile, fatta di rivolte, ribellioni, tanto classismo, quindi classi alte molto benestanti e classi povere veramente maltrattate. Una realtà distopica, insomma, ma ricca di neon, tecnologia alto livello, cibernetica e un po' di pioggia, soprattutto nel primo Blade Runner. In questo invece abbiamo anche un po' di neve. Sì, beh, nel primo c'era tanta pioggia, in questo c'è anche la neve, ma penso ci sia un motivo. Il regista del primo è Ridley Scott, che è inglese, e gli inglesi di pioggia ne vedono tanta. Il regista di questo invece è Villeneuve, è canadese, del Quebec, figurati se non mette la neve nelle pellicole. Non voglio stare a fare paragoni fra i due Blade Runner, che poi in realtà non sarebbero neanche due. Ecco, l'unico paragone che voglio fare è questo. Io ho apprezzato di più quello più recente, questo, il 2049, ma penso ci sia una motivazione specifica. In quello degli anni 80, il 2000 era un anno futuro. La transizione che c'è stata fra gli anni 80, 90 e il 2000, io un po' me la ricordo. Ero piccolino, essendo nato nel 95, però mi ricordo che comunque mia madre, mio padre, comunque il mondo intero aspettava questo 2000 come futuro, appunto, il nuovo secolo. Ed è proprio in Cyberpunk a parlarti di futuro. Una corrente nata in quegli anni, in cui si pensava al futuro come pieno di astronavi, navicelle, laser, neon, cose di questo tipo. Blade Runner 2049, invece, mi ha fatto sentire meno legato a questo aspetto, appunto, del futuro, proprio perché nasce dopo il 2000. E noi, essendo già nel 2020, sappiamo benissimo che nel 2049, ipoteticamente, non ci saranno navicelle spaziali, neon, cose futuristiche. Probabilmente il mondo sarà come è adesso e ci saranno iPhone più sottili con più fotocamere. Quindi, tolto questo tema del futuro, ne rimangono due, molto importanti, in entrambi le pellicole, ma che ho vissuto di più in questo 2049, appunto. Politica e love story. Il tema politico è riassumibile così, abbiamo i replicanti, che sono stati bannati, e i Blade Runner, che fanno un po' da poliziotti e vanno a cercare questi replicanti. E il tema sostanziale è chi sono io, perché l'agente K, Ryan Gosling, è sempre un personaggio che oscilla molto, no? E ti fa pensare a quale sia la vera giustizia, a quale sia l'etica dietro le cose, a quale sia la morale. Non voglio farvi spoiler, ovviamente. Dall'altra parte, invece, abbiamo la storia d'amore, fra l'agente K e Alexa. Ciò che non si chiama Alexa, però io mi sogno Alexa, proprio quella di Amazon, così, fra qualche anno. Alexa è sostanzialmente un'intelligenza artificiale che diventa una donna, diventa la tua amante, diventa tua moglie, diventa un po' quello che vuoi. Perché la puoi con... Non trovo la risposta alla domanda. Grazie, eh, l'ho invocata. Insomma, sono semplicemente ottimista. Di Love Story, con personaggi virtuali, ne abbiamo viste tantissime, in tantissimi film, anche in tante realtà distopiche. Pensiamo ad esempio ad alcune puntate di Black Mirror, o a quel capolavoro di Her, con Joaquin Phoenix, attore di cui abbiamo già parlato nel video sulla fotografia in Joker, che vi invito ad andare a guardare. Ecco, in questo film, la relazione fra umano e realtà virtuale, questa Love Story è dannatamente toccante. Una delle più belle che io abbiamo visto in un film. Soprattutto in film recenti e soprattutto in film fantascientifici, diciamo. Ma passiamo dunque ad analizzare i tre frame di questo film, per capire al meglio la fotografia che c'è dietro questa pellicola. Il primo frame è questo. Apparentemente troviamo un agente K in mezzo al deserto. E perché vi porto proprio questo frame? Vi porto questo frame che in realtà fa parte di una serie di frame che ora vedrete a schermo. In questa immagine abbiamo un campo molto molto aperto. Il campo aperto generalmente ci permette di isolare il soggetto e includerlo in un ambiente molto più vasto, per far percepire allo spettatore dove si trovi fondamentalmente il soggetto della scena. Generalmente queste ambientazioni aperte, questi campi estremamente larghi, soprattutto se visti in movimento, quindi in pellicola, prendiamo ad esempio tutte le scene in cui la navicella spaziale vola sopra la Los Angeles ricostruita, e ci fa vedere appunto questi campi infiniti con orizzonti indeterminati. Ecco, queste inquadrature dovrebbero generalmente darci respiro, dovrebbero darci aria, dovrebbero permetterci di ambientarci al meglio nella scena. Ma in questo film sono caratterizzate perfettamente per essere soffocanti. Avrei voluto guardare questo film al cinema solo perché guardandolo su uno schermo ancora più grande mi sarei sentito ancora di più in angoscia, ancora di più soffocare. Sarà che i film amo viverli fisicamente, ma sono scene che mi fanno percepire al meglio lo smog, una città inquinata, ma inquinata da dentro, non inquinata solo dallo smog stesso, un paesaggio dove non riusciamo a respirare. E questa cosa è replicata in tutti i campi larghi di questo film, che non ci fanno mai sentire liberi, ma ci fanno sempre sentire oppressi, anche dal nulla. Perché fondamentalmente non vediamo nulla, vediamo campi enormi, e proprio parlando di campi estremamente larghi, passiamo al secondo frame. In questo frame possiamo vedere una delle scene iniziali del film. Senza farvi troppi spoiler, il film inizia proprio con l'incontro fra l'agente K e questo personaggio, a cui appunto l'agente K va a fare un controllo. Cosa mi piace di questa scena? Innanzitutto l'illuminazione. Dalla finestra esce una luce veramente accecante, guardate come brucia letteralmente la testa e le spalle di Ryan Gosling. Una luce fortissima, artificiale ovviamente, che a noi sembra la luce del sole, ma in realtà è palesemente un pannello messo appena fuori dalla scena per creare questa luce molto forte. Spesso nel cinema infatti vengono utilizzate luci artificiali che però ci sembrano altro, in questo caso ad esempio la luce del sole. Ma non è un caso che questa luce sia così forte, ma che arrivi comunque in maniera molto morbida dentro la stanza. Infatti se guardate la stanza è molto piatta, abbiamo praticamente un unico colore, questo marroncino, che è presente sia sui vestiti dell'agente K, sia sui vestiti dell'altro personaggio, sia sulle pareti. Abbiamo quindi un solo colore che si unisce col bianco, un bianco molto forte sulla finestra, che ci lascia intendere che da fuori arrivi una luce fortissima. Tuttavia, in tutte le scene girate al di fuori di questa stanza, possiamo notare come in realtà non ci sia questa luce così forte, ma anzi l'illuminazione sia abbastanza piatta. Beh, questa scelta ci permette di isolare al meglio la casa dall'ambiente esterno, ma al contempo lasciando tutto piatto di farci percepire una sensazione di apatia, una sensazione di stantio. Perché si parla comunque di un mondo post-apocalittico, tra virgolette. Un mondo dove c'è poca vita e quella poca vita che c'è è tutta racchiusa nelle città. Città piene di gente, ricolme di gente appunto, e tutto il resto che rimane morto, deserto, grigio e senza vita. E unendo tutto ciò che ci siamo detti, passiamo appunto al terzo frame. Il terzo frame è questo. Anche in questo caso non voglio parlarvi di un frame nello specifico, ma di varie scelte stilistiche che si ripetono nel film, che ci aiutino a comprenderlo meglio. In questo frame abbiamo un campo larghissimo, che ci faccia intendere appunto che siamo in un edificio enorme, con una luce fortissima e durissima, che entra su tutta la parte superiore della parete. Questa luce così enorme ci fa capire sin da subito che siamo in un edificio gigantesco. Ce lo fanno capire anche i personaggi che sono molto piccoli in un campo molto largo. Le caratteristiche principali di questo frame sono inoltre il colore e la simmetria. Il colore è molto caldo. Arancione, oro, giallo. Ecco, in questa pellicola viene fatta una forte distinzione fra quella che è la classe alta e quella che è la classe bassa. E questa distinzione viene fatta nel framing sia con la composizione che con i colori. Infatti la maggior parte delle scene che rappresentano l'interno della città, ma ad un livello alto, tendono a essere dominate da colori molto caldi, questo oro, giallo, arancione, che in realtà non ci danno troppo l'idea di sfarzo, ma ci danno l'idea di nobilità in sé. Al contempo tutte quelle scene ambientate nella lower class, quindi nella popolazione più casinista, confusionaria, in tutta la classe più povera, insomma, della città, ecco, tutte quelle scene hanno delle dominanti molto, molto più bluastre. Quindi a livello di colori abbiamo un rapporto fra caldo e freddo che ci fa già identificare ricchezza e povertà. Al contempo possiamo fare lo stesso ragionamento in termini di composizione. Tutte le scene che rappresentano una classe alta sono estremamente precise, simmetriche, ambienti molto ampi, praticamente privi di elemento umano. Abbiamo queste stanze gigantesche in cui magari c'è solo una persona. Tutte le inquadrature sono dannatamente simmetriche, tutte le linee che portano il nostro sguardo verso l'infinito, verso le grandi dimensioni di una società estremamente impari, dove il grande è veramente grande, il piccolo è veramente piccolo. Al contempo in tutte le scene ambientate invece nella lower class, quindi nella popolazione, tra la gente normale, ecco, tutte quelle scene sono rappresentate con il caos. Gente che passa ovunque, luci ovunque, luci anche fighe in realtà, perché siamo nel cyberpunk, siamo in un momento storico in cui le luci a neon dominano tutto, navicelle spaziali, insegne. Piccola domanda, vi siete chiesti perché ci siano un sacco di elementi giapponesi in un film ambientato in California? Se lo sapete scrivetemelo nei commenti. Detto ciò, passiamo adesso al momento in cui mi faccio una foto. Come frame, per oggi, ho scelto un qualcosa di relativamente molto più semplice, per due motivi. Il primo motivo è che non posso uscire di casa, siamo in quarantena e non ho trovato niente a cui ispirarmi rimanendo in casa. Quindi magari realizzerò qualcosa in futuro e mi farò quella foto in un campo aperto. Avrei voluto fare qualcosa in un simil deserto, avevo qualcosa in mente, ma purtroppo appunto non potendomi spostare e dovendo rispettare i divieti, sono costretto a fare qualcosa in casa. Oggi in realtà sarà molto più semplice realizzare lo scatto, perché dal momento in cui non posso uscire di casa, siamo in quarantena, ma volevo comunque portarvi un frame ispirato a Blade Runner 2049. Allora ho detto, sai cosa? Riproponiamo l'occhio con cui si apre il film, perché è una delle tematiche centrali del film stesso. Setup molto semplice, ho la mia Sony con due tubi macro, uno da 10 mm, uno da 16 mm, così facendo riuscirò a arrivare molto vicino al mio occhio a fotografarmi, e ho messo un octabox davanti a me enorme, e ora sto cercando di realizzare un po' di scatti per non avere il riflesso nell'occhio, avere quindi l'occhio molto pulito, e in realtà vorrei provare a dilatarmi un po' la pupilla, ma non ho droghe in casa. Ho fatto un po' di test, in realtà in questo caso lo scatto è apparentemente molto semplice, ma non riesco a trovare un'illuminazione che non mi specchi, quindi non mi faccia il riflesso dentro l'occhio, e man mano che rimango a guardare l'octabox, che è molto luminoso e molto grande, ogni volta la mia pupilla si restringe, e quindi devo andare di là. No niente, il polarizzatore come sospettavo non fa nulla in questo caso, l'unica sarebbe avere qualcosa che rifletta poco nell'environment, quindi avere una stanza poi magari molto neutra, molto bianca, illuminata naturalmente, con una luce molto diffusa, che quindi il riflesso negli occhi non si veda, però è impossibile, quindi vediamo un attimino che risultati abbiamo ottenuto, e vediamo se c'è qualcosa che mi soddisfa. E quindi ho scelto questa scena iniziale, l'occhio, occhio con il quale si apre Blade Runner, andiamo a vedere un attimino lo scatto che mi sono fatto, e poi ne parliamo. Perché ho scelto proprio l'occhio? L'occhio apre entrambi i film in realtà, sia questo Blade Runner che il suo prequel, e l'occhio è parte fondamentale della trama, l'occhio ci permette di riconoscere replicanti, vengono utilizzati scanner biometrici sugli occhi, per riconoscere chi è replicante e chi non lo è. Nell'altro Blade Runner forse sono ancora più importanti gli occhi, rispetto a questo, che affronta tematiche differenti, ma come vi ho detto non ho voluto concentrarmi troppo su un paragone fra due film, questo è molto più nuovo, ha una tecnologia dannatamente migliore, proprio quando è stato prodotto no? Insomma è molto più facile produrre un film ambientato nel futuro, ora che la CGI e gli effetti sono a un livello atomico. E niente ragazzi, io spero che anche questo video sul cinema vi sia piaciuto, vi invito a lasciarmi un commento dicendomi la vostra, e vi invito a commentare appunto scrivendomi anche quale potrebbe essere secondo voi un film che dovrei trattare in futuro. Detto ciò, da Simone Tark è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!